qua raffaele ciao ciao buongiorno buongiorno da udine c'è anche frank come vai sei seduto? è stanco è stanco sentite dobbiamo parlare di province ultimamente dobbiamo prendere nell'ambito regionale della puglia quante province ha la puglia? quante? quante ne abbiamo? quante ne abbiamo? come andiamo? quattordici cala cala che cosa è il quattordici? l'ubriaco quello che sei tu in questo momento senti ma se 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 le province sono in puglia sono? quante ne conosci qualcuna di provincia? provincia? provincia di? provincia di? provincia di? provincia di? la bat e quella è barletta andrea barletta andrea e trani perfetto quella è unica provincia bravo bravo applauso e poi abbiamo e siamo a una poi abbiamo l'altra provincia è la? provincia la provincia non la pastora no ma noi mi hai seguito da la cosa? adesso faccio slice la canta siamo due 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 sì adesso andiamo l'altra provincia fofà 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 foggia-foggia sono tre 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 e mentre adesso andiamo a brrr brrr briniti caldo briniti caldo briniti caldo briniti caldo briniti caldo quando tu prendi un bicchiere briniti se briniti se quattro attenzione attenzione poi andiamo a le a le a le a le 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 provincia di le le c'è bravo e poi abbiamo la provincia di che provincia che provincia provincia di no baci baci no baci avete ascoltato le sei province della nostra regione Puglia grazie a tutti se non sono così noi non li vogliamo va bene grazie